Cura, legalità, uscita dal ghetto. Alvia la prima riunione operativa alla presidenza della regione Puglia dopo la sottoscrizione del protocollo sperimentale siglato a Roma il 27 maggio. Il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura va gestito attraverso una attenta pianificazione. Situazioni di assoggettamento di altri esseri umani non sono tollerabili ed è compito delle regioni affrontare e porre rimedio a tali situazioni che si profilano come vere e proprie emergenze umanitarie. Siamo consapevoli che il lavoro che abbiamo davanti è complesso e richiederà tempo. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, che ha convocato la riunione. Presenti anche i delegati di CGL, CISLE, WILE, Dattoriali, Confagricoltura, CIA, Coldiretta e Copagri. Nei prossimi giorni saranno convocate dalla regione anche le realtà del terzo settore firmatari dell'accordo. All'incontro, riferisce una nota della regione, hanno partecipato anche i delegati di cinque dipartimenti a testimonianza della natura trasversale delle politiche regionali in materia di contrasto al caporalato e sfruttamento lavorativo. Oggi, ha detto Emiliano, si definisce con precisione l'impegno che ciascuno dei soggetti presenti assume per difendere i diritti dei lavoratori, delle aziende sane e della immagine della Puglia. Nella riunione è stata decisa l'attivazione di un gruppo di lavoro permanente che, da domani per i prossimi dieci giorni, declinerà operativamente il contenuto del protocollo nazionale.